Jason fu il primo a vedere l'angelo al furgoncino dei gelati. Largodue aveva gettato l'ancora nella baia insieme a sei o sette navi da crociera. Come al solito, i mortali non avevano minimamente fatto caso alla trireme. Ma, per non correre rischi, Jason e Nico saltarono su una barchetta di turisti, in modo da confondersi tra la folla una volta giunti a riva. Di primo acchito, Spalato sembrava proprio un bel posto. Sull'ansa formata dal porto c'era un ampio lungomare costeggiato da palme. Nei bar all'aperto, i ragazzi chiacchieravano in una decina di lingue diverse e si godevano il pomeriggio di sole. L'aria odorava di carne alla griglia e fiori freschi. Dietro il viale principale, la città era un guazzabuglio di torri medievali, mura romane, case di pietra calcarea con i tetti rossi e palazzi moderni tutti ammucchiati insieme. In lontananza, colline grigio-verdi si protendevano verso un valico montano. Preoccupato, Jason continuava a lanciare occhiate verso la scarpata rocciosa, aspettandosi di veder spuntare la faccia di Gea nei suoi anfratti. Stavano passeggiando sul lungomare, quando notò il tizio con le ali che comprava un gelato da un furgoncino. La gelataia contava il resto con aria annoiata. I turisti evitavano le ampie ali dell'angelo senza neanche voltarsi a guardare. Jason diede un colpetto con il gomito a Nico. L'hai visto? Sì, forse dovremmo prenderci un gelato. Mentre si dirigevano verso il furgoncino, Jason temette che il tizio con le ali fosse un figlio di Borea, il vento del nord. Al fianco, l'angelo portava lo stesso tipo di spada dei Boreadi e l'ultimo scontro che Jason aveva avuto con loro. Non era andato benissimo. Ma quel tizio sembrava più gelido che era gelante. Indossava una canottiera rossa, un paio di bermuda e sandali di cuoio intrecciato. Le ali erano una miscela di varie tonalità color ruggine, come la coda di un gallo o un tramonto. Era abbronzatissimo e aveva capelli neri e ricci, quasi come quelli di Leo. Non è uno spirito risorto, sussurrò Nico, né una creatura degli inferi. No, concordò Jason. Dubito che mangerebbero un gelato ricoperto di cioccolata. Allora cos'è? Arrivarono a una decina di metri di distanza e il lato guardò dritto verso di loro. Sorrise, fece un gesto e si dissolse nell'aria. Jason non riusciva a vederlo benissimo, ma aveva abbastanza esperienza con il vento da rintracciare il percorso dell'angelo. Un guizzo color rosso e oro che sfrecciava per strada, turbinava lungo il marciapiede e soffiava via le cartoline dagli espositori girevoli davanti ai negozi di souvenir. Il vento si diresse verso la fine del lungomare, dove torreggiava una grossa struttura simile a una fortezza. Scommetto che il palazzo è quello, disse Jason. Andiamo! Nonostante i secoli di storia alle spalle, il palazzo di Diocleziano era ancora imponente. La cinta muraria era ridotta a un'ossatura di granito rosa, con le colonne in rovina e le finestre ad arco spalancate sul cielo, ma era per lo più integra, lunga all'incirca duecento metri e alta poco meno di venti. Al suo cospetto, i negozi e le case moderne affastellate ai suoi piedi sembravano minuscoli. Jason immaginò l'aspetto del palazzo appena costruito, con le guardie imperiali che camminavano sui bastioni e le aquile dorate di Roma che scintillavano sui parapetti. L'angelo alato, o quel che era, guizzò dentro e fuori dalle finestre di granito rosa per poi sparire dall'altra parte. Jason scrutò la facciata del palazzo alla ricerca di un'entrata. L'unica che vide si trovava a diversi isolati di distanza, con i turisti in coda alla biglietteria. Non c'era tempo per la fila. «Dobbiamo raggiungerlo», disse a Nico. «Tieniti stretto». «Ma…» Jason afferrò Nico e si sollevò in aria. Il figlio di Ade mise un suono smorzato di protesta mentre si vibravano sopra le mura ed entravano in una corte, dove gironzolavano altri turisti intenti a scattare foto. Quando atterrarono, un bambino sgranò gli occhi sbigottito. Ma poco dopo scosse la testa, lo sguardo spento, come per allontanare un'allucinazione indotta dal succo di frutta. Nessun altro ci badò. Sul lato sinistro della corte si ergeva una fila di colonne che sostenevano archi grigi e rosi dal tempo. Sul lato destro c'era un edificio di marmo bianco, con una serie di alte finestre. «Il peristilio», disse Nico, «era l'ingresso alla residenza privata di Diocleziano». Guardò Jason, accigliato. «Per favore, non mi afferrare mai più in quel modo! Non mi piace essere toccato!» Jason si irrigidì. Gli sembrò di percepire un sottofondo di minaccia della serie «A meno che tu non voglia una spada dell'ostige infilata nel naso!» «Ok, scusa, come fai a sapere il nome di questo posto?» Nico osservò l'atrio. Si concentrò su alcuni gradini che scendevano in un angolo. «Ci sono già stato. I suoi occhi erano scuri e cupi come la sua spada. Con mia madre bianca. Un fine settimana, quando vivevamo a Venezia. Avrò avuto più o meno sei anni». «Era negli anni trenta del novecento?» «Nel trentotto, credo», rispose Nico in tono assente. «Perché ti interessa? Vedi il tizio alato da qualche parte?» «No». Jason stava ancora tentando di farsi un'idea del passato di Nico. Cercava sempre di stabilire un buon rapporto con le persone della propria squadra. Aveva imparato per esperienza che, se qualcuno deve coprirti le spalle in battaglia, è meglio avere costruito un terreno comune e fidarsi l'uno dell'altro. Ma Nico non era una persona facile da comprendere. «Io non... non posso neanche immaginare quanto deve essere strano venire da un'altra epoca». «No, non puoi». Nico fissò il pavimento in pietra. «Darasse un respiro profondo». «Senti, non mi piace parlarne. Sinceramente penso che Hazel sia andata peggio. Ha più ricordi di me di quando era piccola. È dovuta tornare dai morti e adattarsi al mondo moderno. Io... io e Bianca siamo rimasti bloccati nell'hotel Casinò Lotus. Il tempo è trascorso così in fretta. È strano, ma la transizione è stata più semplice. Persi mi ha raccontato di quel posto. Settant'anni in un mese, giusto? Sì». Nico strinse il pugno fino a far sbiancare le dita. «Sono sicuro che Persi ti ha raccontato tutto di me». La sua voce era carica di amarezza, più di quanto Jason potesse comprendere. Sapeva che Nico aveva incolpato Persi per la morte di sua sorella Bianca, ma era una cosa che si erano lasciati alle spalle, almeno secondo Persi. Piper aveva anche accennato a una voce, secondo cui Nico si era preso una cotta per Annabeth. Forse l'amarezza dipendeva anche da quello. Eppure, Jason non capiva perché Nico tenesse sempre tutti a distanza, perché non trascorresse mai molto tempo in nessuno dei due campi, perché preferisse i morti ai vivi. Né tantomeno capiva perché avesse promesso di condurre Largo 2 nell'Epiro, se odiava tanto Persi Jackson. Nico scrutò le finestre. «I morti romani sono ovunque qui. Lari. Lemuri. Osservano. Sono arrabbiati. Con noi?» Jason portò la mano alla spada. «Con tutti». Nico indicò un piccolo edificio in pietra sull'estremità occidentale della corte. Quello era un tempio di Giove. I cristiani l'hanno trasformato in un battistero. Gli spiriti romani non hanno gradito. Jason fissò l'entrata buia. Non aveva mai conosciuto Giove, ma pensava a suo padre come una persona viva, il tizio che si era innamorato di sua madre. Naturalmente sapeva che era immortale, ma in qualche modo non aveva compreso appieno il vero significato della cosa fino a quel momento, mentre guardava una porta che i romani avevano varcato, migliaia di anni prima, per adorare Giove, suo padre. Roba da mal di testa assicurato. E laggiù? Nico indicò un edificio esagonale circondato da colonne dalla parte opposta. Quello era il mausoleo dell'imperatore. Ma la tomba non è più lì, intuì Jason. Da secoli ormai, confermò Nico. Quando l'impero è crollato, l'edificio è stato trasformato in una cattedrale cristiana. Jason deglutì. Quindi se lo spirito di Diocleziano è ancora nei paraggi, probabilmente non è felice. Il vento frusciava, trascinando le foglie e l'involucri di cibo nel peristilio. Con la coda dell'occhio, Jason vide di sfuggita qualcosa che si muoveva, un bagliore rosso e oro. Quando si girò, una piuma color ruggine stava volteggiando sui gradini nell'angolo. Di là, indico qualcosa, il tizio con le ali. Secondo te dove portano quelle scale? Nico sguainò la spada. Quando sorrideva, sembrava ancora più inquietante di quando era serio. Sottoterra, rispose. Il mio posto preferito. Sottoterra non era il posto preferito di Jason. Dopo il viaggio nei sotterranei di Roma insieme a Piper e Percy e la battaglia contro i giganti gemelli sotto il Colosseo, gran parte dei suoi incubi riguardavano luoghi interrati, botole e grosse ruote da criceto. La compagnia di Nico non era rassicurante. La sua spada di ferro dell'ostige sembrava rendere le ombre ancora più tetre, come se il metallo infernale assorbisse la luce e il calore dell'aria. Si infilarono in un enorme sotterraneo con robuste colonne che reggevano un soffitto a volta. I blocchi di pietra calcarea erano talmente antichi che nel corso dei secoli si erano fusi in un tutt'uno per l'umidità e lo spazio sembrava quasi una grotta naturale. Nessun turista vi si avventurava. A quanto pareva, i turisti erano più furbi dei semidei. Jason sguainò il Galadius. Si incamminarono sotto basse arcate, i passi che riecheggiavano sul pavimento di pietra. Finestre chiuse da inferriate ricoprivano la parte superiore di una parete e si affacciavano sul livello della strada, rendendo così il sotterraneo ancora più claustrofobico. I raggi di luce sembravano le sbarre oblique di una prigione in cui turbinava polvere antica. Jason superò una trave di sostegno, guardò a sinistra e per poco non ebbe un attacco di cuore. A fissarlo dritto negli occhi c'era un busto in marmo di Diocleziano, con il volto calcareo corrucciato e carico di disapprovazione. Il figlio di Giove calmò il respiro. Sembrava il posto giusto per lasciare il biglietto che aveva scritto per informare Reina della loro rotta verso l'epiro. Era poco frequentato, ma per Reina non sarebbe stato un problema, visto che aveva l'istinto di una cacciatrice. Jason infilò il biglietto fra il busto e il piedistallo e arretrò. Gli occhi di marmo di Diocleziano lo innervosivano. Non poteva fare a meno di pensare a Terminus, il dio nonché statua parlante di Nuova Roma. Sperò che Diocleziano non gli gridasse contro, né si mettesse a cantare all'improvviso. Ciao! Prima che Jason capisse che la voce proveniva da un'altra direzione, aveva già tagliato la testa dell'imperatore. Il busto cadde e si frantumò a terra. Non è stato molto carino da parte tua, disse la voce alle spalle di ragazzi. Il tizio con le ali che avevano visto al furgoncino dei gelati era appoggiato a una colonna poco lontano e lanciava con disinvoltura un piccolo anello di bronzo per aria. Ai suoi piedi c'era un cestino di vimini da picnic pieno di frutta. «Insomma, cosa ti avrà mai fatto, Diocleziano?» L'aria mulinava intorno ai piedi di Jason. Le schegge di marmo si riunirono formando un tornado in miniatura, turbinarono verso il piedistallo e si ricomposero creando il busto intero, con il biglietto infilato sotto come prima. «Ehm, Jason abbassò la spada. È stato un incidente. Mi hai spaventato.» Il tizio alato ridacchiò. «Jason Grace. Il vento di ponente è stato chiamato in molti modi. Caldo, delicato, rinvigorente e bellissimo. Ma spaventoso mai.» «Lascio un comportamento volgare come questo ai miei fratelli burrascosi del nord.» Nico indietreggiò appena. «Il vento di ponente? Vuoi dire che sei Favonio?» Intui Jason. «Il dio del vento di ponente.» Favonio sorrise e si inchinò, felice di essere riconosciuto. «Potete chiamarmi con il nome romano, certo. Oppure Zefiro, se siete greci. Non ne faccio un dramma io.» Nico invece sì. «Perché il tuo lato greco e romano non sono in conflitto, come per gli altri dei?» «Oh, di tanto in tanto qualche grattacapo ce l'ho.» Favonio scrollò le spalle. «Certe volte la mattina mi sveglio con il chitone greco, anche se sono sicuro di essere andato a letto con il pigiama SPQR. Ma per lo più la guerra non mi crea fastidi. Sono un dio minore, non sono mai stato sotto le luci della rivalta. Le battaglie tra voi semidei non mi colpiscono più di tanto.» «Allora…» Jason non sapeva se sguainare la spada. «Cosa ci fai qui?» «Diverse cose», rispose Favonio. «Vago con il mio cestino di frutta. Ne porto sempre uno con me.» «Ti va una pera?» «No, grazie.» «Vediamo. Poco fa mangiavo un gelato. Adesso lancio questo anello.» Favonio fece ruotare l'anello di brunzo intorno all'indice. Jason non aveva idea di che tipo di anello fosse, ma tentò di rimanere concentrato. «Insomma, perché ci sei apparso? Perché ci hai condotto sottoterra?» «Oh, Favonio annui. Il sarcofago di Dio Cleziano.» «Sì, questo era il suo luogo di sepoltura definitivo. I cristiani l'hanno tolto dal mausoleo. Poi i barbari hanno distrutto la bara.» Allargò le mani con aria sconsolata. «Volevo solo mostrarvi che quello che cercate non è qui.» «L'ha preso il mio padrone.» «Il tuo padrone?» Jason ebbe un flashback su un palazzo fluttuante sopra Pikes Peak, in Colorado, dove aveva visitato, ed era sopravvissuto per un pelo, lo studio di un folle meteorologo convinto di essere il dio di tutti i venti. «Ti prego, dimmi che il tuo padrone non è Eulu.» «Quella zucca piena di aria fritta.» Favonio sbuffò. «No, certo che no!» «Sta parlando di Eros», spiegò Nico, teso. «Cupido per i romani.» «Molto bene, Nico di Angelo.» Favonio sorrise. «Sono felice di rivederti. È passato tanto tempo.» Nico aggrottò le sopracciglia. «Non ti ho mai incontrato prima d'ora.» «Tu non mi hai mai visto», lo corresse il dio. «Ma io ti ho tenuto d'occhio. Quando sei venuto qui da bambino, e diverse volte dopo, sapevo che prima o poi saresti tornato ad ammirare il volto del mio padrone.» Nico si fece ancora più pallido del solito. Cominciò a guardarsi intorno, con gli occhi che sfrecciavano da una parte all'altra di quello spazio cavernoso, come se iniziasse a sentirsi in trappola. «Nico?» domandò Jason. «Di cosa sta parlando?» «Non lo so, di niente.» «Niente?» Favonio scosse il capo. «La persona a cui tieni di più al mondo è... sprofondata nel tartaro? E tu ancora non riesci ad ammettere la verità?» A un tratto, Jason si sentì come se stesse origliando una conversazione molto riservata. «La persona a cui tieni di più al mondo.» Gli tornò in mente quello che Piper aveva detto a proposito della cotta di Nico per Annabeth. A quanto pareva, era molto di più di una semplice cotta. «Siamo venuti soltanto per lo scettro di Diocleziano», replicò Nico, ansioso di cambiare discorso. «Dov'è?» «A...» Favonio annui, sconsolato. «Pensavi che fosse una cosa semplice come affrontare lo spirito di Diocleziano?» «Ho paura di no, Nico. Le tue prove saranno parecchio più difficili.» «Sai, molto prima di essere il palazzo di Diocleziano, questo era l'ingresso della corte del mio padrone. Ho abitato qui per secoli, portando al cospetto di Cupido quelli che erano in cerca d'amore.» A Jason non piacque quell'accenno a prove difficili. Non si fidava di quello strano dio con l'anello, le ali e il cestino di frutta. Però gli tornò in mente una vecchia storia, una cosa che aveva sentito al campo Giove. «Ma sì, certo! Psiche, la moglie di Cupido! Sei stato tu a portarla al suo palazzo?» A Favonio brillarono gli occhi. «Molto bene, Jason Grace. Proprio in questo punto esatto ho preso Psiche e l'ho condotta nelle stanze del mio padrone. In realtà è il motivo per cui Diocleziano ha costruito qui il suo palazzo. Questo luogo è sempre stato lambito dal delicato vento di ponente.» Allargò le braccia. «Un'oasi di tranquillità e amore in un mondo turbolento.» «Quando il palazzo di Diocleziano è stato saccheggiato, tu hai preso lo scettro!» concluse Jason. «Per tenerlo al sicuro!» Favonio annui. «È uno dei tanti tesori di Cupido, un souvenir dei bei tempi.» «Se lo volete...» si girò verso Nico. «Dovrete affrontare il Dio dell'amore!» Nico fissò la luce del sole che filtrava dalle grate, come se volesse fuggire attraverso le sbarre. Jason non era sicuro di quello che Favonio voleva, ma se affrontare il Dio dell'amore significava costringere Nico a confessare chi era la ragazza che gli piaceva, non era poi tanto terribile. «Puoi sarà imbarazzante, ma è per lo scettro!» Nico non sembrava convinto. In effetti pareva sul punto di vomitare. Ma raddrizzò le spalle e annui. «Hai ragione! Non ho paura di un Dio dell'amore!» Favonio sorrise, raggiante. «Molto bene! Vi andrebbe uno spuntino prima di partire!» Prese una mela verde dal cestino e la guardò corrugando la fronte. «Oh, parole al vento! Continuo a dimenticare che il mio simbolo è un cesto di frutta acerba!» «Perché il vento di primavera non gode di maggior fiducia? L'estate si prende tutto il divertimento!» «Non fa niente!» si affrettò a dire Nico. «Portaci da Cupido e basta!» Favonio fece ruotare l'anello di bronzo sul dito. E i due semidei svanirono nell'aria.